Presentiamo oggi la tecnologia formassorbente più importante al mondo. Possiamo dirlo perché tutto quello che era gestito dal punto di vista della formassorbenza era fatto con materiale, con massa, con spessore importante. Oggi presentiamo a Sfone del Mobile una tecnologia che si chiama Fiber che consente di correggere queste situazioni di comfort acustico inadeguata di riverbero con uno spessore di tessuto che è di un millimetro e mezzo. Come? Semplicemente facendo questo. Io adesso continuo a parlare tirando questo tessuto che diventa un tessuto da reddo e voi potete capire e sentire qual è il livello di assorbimento, di comfort che riusciamo a dare in questo ambiente che è riverberante. Prima l'abbiamo fatto su una superficie sola, ora lo facciamo su tutte le superfici che vi fanno capire acusticamente come si può caratterizzare questo genere di prodotto. È un prodotto customizzabile e interpretabile come un tessuto da reddo in qualsiasi ambiente. Ora, che avete sentito, togliamo questa tecnologia in modo che riuscite a percepire esattamente come era l'ambiente prima dell'inserimento dell'assessore. Questo è quello che avevamo prima di inserire Fiber all'interno di questo ambiente. Perché visto è? Grazie a tutti.